dottor maggio ci sente mi sentite la sentiamo lei ci sente dottor maggio e sento anch'io sento anch'io si vedo vedo saluti può provare a attivare la telecamera a sinistra nella sua icona ho cliccato mi vedete parli un attimo pronto pronto allora Roberto Maggi che ora vi terrà una lezione da par suo sui primi scavi soprattutto di Eberna Bobberea all'Arena Candide ma in generale su questo scavo che come vedremo ha cambiato completamente il panorama della prestazione italiana è stato per molti anni funzionario della sovrintendenza archeologica della Liguria ha lavorato tantissimo in questa regione anche in collaborazione con altri specialisti in collaborazione anche con specialisti stranieri è uno dei personaggi che in qualche modo ha portato avanti la grande tradizione Ligure che comincia nell'Ottocento con Isse e poi prosegue nel Novecento con L'Amboglia e Bernabobrea e lui diciamo in qualche modo ha cercato di tenere le fila di tutte queste attività aprendo anche nuovi orizzonti sulle miniere di Selce e Neolitiche e su tanti altri contesti della prestazione Ligure però devo dire che il leitmotiv della sua attività è sempre stato quello dell'Arena Candide quindi diciamo se esiste una persona che sa tutto di questo giacimento della storia della sua esplorazione delle caratteristiche fisiche del deposito della cronologia eccetera eccetera questo è proprio Roberto Maggi lo ringrazio e gli cedo la parola per parlare di questo argomento eccoci benissimo ringrazio la presentazione del professor Guidi ringrazio di avermi invitato in realtà preferirei essere lì fisicamente perché io sono nato sette anni prima della televisione ed è la prima volta in cui mi trovo a parlare di fronte a un monitor di un computer vabbè e c'è sempre la prima volta va bene infatti infatti siamo qua bene la mia comunicazione avviene però sento un ritorno in cuffia scusate è mica possibile sentite? mi sentite? pronti? ecco perché io senti ecco adesso va bene sentivo un ritorno che è piuttosto fastidioso dicevo la mia comunicazione è anche a nome di no è tornato quel un fracasso proprio davanti lei sente ancora rumore? no adesso no adesso va bene ok bene allora mi sentite? si si va bene allora dicevo la mia comunicazione avviene anche eh dagliela niente ma vabbè pazienza mi tengo questo è che sento la mia voce che ritorna capite? è un po' paziente di oggi ma le cuffiette sono al massimo come? eh va bene mi abituerò pazienza dai vediamo così adesso non vi sento voi mi sentite? si si benissimo dovrebbe andare meglio ho abbassato il mio il volume del mio autoparlante penso che ecco va bene se mi sentite vado avanti sì affermativo bene allora per la terza volta dico che la mia comunicazione avviene anche al nome di Andrea De Pascale il quale scusa di non essere di non essere presente ma si trova in questo momento in Iran e quella che vi presento la foto di Luigi Bernabobea che vi presenta è una delle rare fotografie che si possono vedere di lui perché non gradiva essere fotografato usato largamente la tecnica della fotografia sugli scavi ma non non gli piaceva essere recratto per via fotografica e neanche di appunto mi piace inizierò anch'io con come ha fatto ascoltare Altini il cui intervento ho ascoltato con grande interesse con grande piacere e imparando e con un contestualizzando a cominciare ovviamente dalla contestualizzazione del sito il nome di caverna delle arene candide deriva da una duna di sabbia silicea quarzosa quindi bianca che i venti dell'ultima glaciazione avevano addossato al promontorio della Capra Zoffa che si trova tra Finale Ligure e Pietraligure insomma la provincia di Savona presso la costa questa fotografia questa fotografia quella di in alto è di una foto della fine dell'Ottocento non sappiamo bene la data neanche della seconda conosciamo bene la data ma nella seconda si vede abbastanza chiaramente che è già iniziata il processo di escavazione della duna che ben presto è sparita e trasformata in vetro da un'industria vetraria che è stata collocata sul posto la caverna delle arene candide è una caverna ampia lunga circa 60 metri larga 20 disposta parallela alla costa con tre grandi aperture di volca sud e quindi è ottimale insomma l'agenzia immobiliare promuoverebbe la fricola di stamare e ha un ambiente piuttosto asciutto quindi conserva molto bene i reperti paunistici i reperti archeologici e il suo deposito archeologico è particolarmente ricco la zona del finalese sono individuati qui sotto la cartina che vedete in basso le aree carsiche è ricchissima di caverne questa tabella che forse non ho uscita a leggere ma nei dettagli ma direi che poco importa insomma sono indicati i nomi di alcune delle caverne che ha due pagine e io faccio vedere solo la prima pagina i nomi delle caverne in alto e i nomi degli scavatori in basso che evoluciono da Amerano Wall Issel Morelli che sta ferrando tutta una serie di personaggi che ha operato ovviamente in occasione dell'esplosione della palettenologia post 1859 origine della specie evoluzionista e come perché presento questa tabella per far vedere che la caverna delle arene candide è stata quella forse più indagata insieme alla pollera e alla nord e San Vecchio molti scavi sono stati condotti nella seconda metà dell'Ottocento in questo sito che quindi è diventato ben presto un sito molto noto un sito diciamo così importante e principale scavatore ottocentesco un po' di usare questo termine è stato Arturo Issel fondatore della preistoria Ligure che ha condotto il suo primo scavo nel 1864 e è passato poi questo che vedete in basso sulla destra è una rappresentazione un disegno fatto da un suo allievo il sacerdote Morelli un disegno della caverna e questa in alto è una planimetria in cui queste crocette indicano le sepolture rinvelute fila a tutto direi gli anni 70 dell'Ottocento come vedete appunto come dicevo prima la caverna è tutto lunga la tre aperture verso il mare ecco vi prego di notare che questo lato della caverna viene rappresentato in questa planimetria come piuttosto contenuto insomma la caverna finisce qua come vedremo in realtà non finisce lì ma io parliamo più avanti allora 1864 prima scavo di Issel un piccolo scavo nel 1876 viene incaricato dal ministero dell'istruzione di condurre invece scavi più consistenti a vantaggio del nascente museo etnografico preistorico di Roma e ricerci e riporta Issel che in nove giorni di ricerche accuratissime rinvenne sette nuovi sepolti una ricca serie di manufatti di terracotta di pietra ed osso che la parte più significativa dei quali è tuttora al museo Figliorini e comprende la prima pintadera che è stata invenuta in Italia e appunto è stata consegnata all'Use riporto qui un passo di Issel tratto dal suo volume Liguria preistorica Issel geologo e quindi insomma la stratigrafia un geologo la maneggia sicuramente e infatti che cosa scrive le materie terrose che occupavano il fondo della spelonca raggiungevano la potenza di circa metri traerenti ed erano regolarmente stratificate il massimo numero degli strati visibili era secondo i punti di 6 o 7 ed in ciascuno si distinguevano quasi sempre un letto di terra bruna un carbone ceneri cocci ed ossa ed un letto sterile assai più sottile formato di terra chiara o biancastra sparsa di pietre angolose ebbene dopo questa precisa direi descrizione della stratigrafia che cosa succede? succede che il buon Isel non corrella i manufatti con gli strati ci sono sì delle citazioni di profondità dei rivenimenti ma da nessuna parte viene presentata una correlazione tra reperti e strati né da lui né in livello sostanzialmente da tutti gli altri numerosi scavatori forse Don Amerano gli indica farà di strati dice che sono certi materiali in uno altri materiali in un altro ma in maniera così insomma un po' un po' confusa come dicevo prima la duna di sabbia silicia le arene candide sono ben presto scomparse coltivate da una vetreria e ben presto la vetreria la cava di sabbia si è trasformata è una cava di calcare questa che vediamo è una fotografia del 1929 in cui si vede molto bene il fronte della cava la caverna si apre qua faccio vedere con la freccia già nel 1917 tuttavia la cava di calcare aveva praticamente reso inaccessibile la caverna dal lato mare dalla via Aurelia a cui si arrivava formalmente in precedenza tanto che ci sono stati degli appelli il 19 giornale di Genova è intervenuto insomma c'è stato un po' di rumore ed ecco che la sovrintendenza all'epoca Piemonte dalla Daostra e Liguria facevano parte di un'unica sovrintendenza con sede a Torino la sovrintendenza tuttavia interviene rapidamente e promulga un vincolo della caverna il 9 maggio 1917 la caverna è vincolata la caverna è vincolata ma come ero messo nell'interrogativo che potete leggere il vincolo non c'è nulla nel senso che la caverna è andata avanti ha subito tre processi perché il ministero insomma la sovrintendenza si conferma renunce e quindi tre processi che si sono conclusi uno con un'ambistia uno con una soluzione in primo grado e uno con una soluzione in appena l'ispettore Marocelli che poi diventerà sovrintendente all'epoca l'ispettore in Liguria insomma in una sua nota in maniera neanche tanto felpata diciamo lamenta una certa inefficienza da parte dell'avvocatura dello Stato questo è così lo dico per cronaca sulla sulla destra vedete una foto della cava di un calcare il calcare veniva trasformato in cemento negli anni 80 e l'8 giugno del 1940 ho messo questa nota perché compare in sovrintendenza un personaggio che è il personaggio cui è dedicata alla mia conversazione di oggi Luigi Bernabobrea infatti vedete la sua classica sigla LPP si firmava in quel modo in maniera molto sintetica ed efficace come stato tutto il suo operato e ora Luigi Bernabobrea qualche nota biografica anche lui forse non proprio come Blanche comunque anche lui Gianabobrea non discende certamente da un ambiente proletario anche una famiglia Bernabobrea c'è un ministro del regno c'è un discende da un'antica famiglia suo padre era notaio ed è nato la madre era della famiglia dei conti di Soagli nasce a Genova il 27 settembre 1910 seguendo diciamo l'ambiente familiare si laurea in giurisprudenza aveva neanche ancora 22 anni quando si è laureato ma in realtà i suoi interessi erano erano diversi il suo maggiore interesse era l'arte giapponese tant'è vero che condusse una piena una pioneristica schedatura di un certo tipo di stampel che non pronuncio perché non conosco il giapponese conservata nel museo chiossone di Genova e poi si interessava era molto entrato dall'antichistica tant'è vero che un mese dopo la laurea nel senso e corso del 32 consegue il diploma alla scuola di paleografia e artiglistica dell'artigliosità e poi era interessato anche dalla teologia per cui si iscrive all'università a Roma e dopo tre anni gli studi erano tutti da 14 mesi servizio militare il 26 novembre del 33 consiegue la laurea in lettere con una tese di topografia antica relatore e quindi subito dopo l'anno dopo del 36 ottiene la borsa alla scuola archeologica italiana di Atene partecipa allo scavo di Pogliocchi e riterisco sue parole non scritte nella sua faccia ma sue parole la battuta dice lì imparai come non si deve scavare ottiene una nuova borsa nel 37 scava il cabirio di non so se si pronuncia Cloio che lui stesso aveva scoprito nel 38 il direttore della scuola archeologica di Atene Alessandro della Seta gli offre una terza borsa di studio ma della Bobrea declina perché vuole partecipare al concorso che è stato mandato per ispettore archeologo nelle sovrintendenze concorso che vince per cui il 10 novembre 1938 venne nominato ispettore aggiunto in prova al museo nazionale di Taranto che era diretto da Ciro Draco svolse iniziò partecipò a gli scavi a Gnazia ma non era ancora passato un anno quindi non aveva neanche ancora finito l'anno di prova che tutti ci sono in costato che lo fare anche oggi quando il primo luglio del 39 venne chiamato a reggere la sovrintendenza archeologica della Lugia era stata appena costituita anzi la sua nomina è contestuale alla costituzione di questa sovrintendenza che prego di osservare è stata costituita in senso della legge 1089 promulgata un mese prima l'amministrazione funzionava con un'efficienza e con tempi esattamente uguali a rega 4 il primo giugno del 39 promulgata una legge il primo luglio del 39 un mese dopo le nuove sovrintendenze esistono non solo quelle figure ma le altre sono state istituite a seguito di quella legge e l'amministrazione parte parte poi lo sovrintendenza tra l'altro sembra che il fatto di aver assegnato la regenza di una neosovrintendenza un scenario come è pura però inizio ulteriore di prova fosse legato al fatto che questo qui aveva anche una laurea o legge la cosa poteva essere di non di carente utilità e comunque la sovrintendenza parte con quanto personale uno o il solo sovrintendente esattamente come oggi se entrate nelle sovrintendenze trovate il sovrintendente e nessun altro e lui fece anche l'economo fino al 27 settembre quando poi insomma il ministero assegnò questa funzione non un luogo dipendente ma colui che era già faceva l'economo della seconda e secondo me la giugna accese e quindi fino a solo parole di l'invito Bernabobria dice ma comunque gli avvanzavano spesso del tempo quindi insomma dire che poi era bastante efficiente anche questo rapo di l'invito successivamente il ministero autorizzò l'assunzione di un assistente e Bernabobria cosa fa? Assunse sua cugina gli fu anche conferita la direzione della sezione archeologica governativa del museo di archeologia di Ligure di Cenova Velli ora in Liguria in quel periodo aveva cominciato stava cominciando ad operare ah no aveva cominciato era già parecchio efficiente Nino Lamboglia col suo istituto visto di Ligure perciò il Bernabob insomma per l'archeologia classica cioè Amboglia notate che Bernabobria era un archeologo classico e lui si era forti con Luballo Formentini che era il direttore del museo civico della Spezia visitò alcuni siti ma alcuni castellari che condusse delle ricognizioni sondaggi di scavo che venivano pubblicati direi immediatamente citi però la guerra e quindi la necessità di proteggere il materiale di ballarlo di smontare le esposizioni mettere i morti sicuri e quant'altro una grande attività che svolse con grande efficienza quindi da subito Luigi Bernabobria mostra quelle che sono quelle caratteristiche di tutta la sua attività l'efficienza non perde tempo pragmatismo attenzione ai musei pubblicazione nel più breve tempo possibile collaborazione con soggetti incapaci e dico basterebbe questo per contrassegnare come felice l'avvio di questa nuova ma è in ordine motivo che lui sono qui a parlare e lui è stato profeta in patria nonostante con lo scavo dell'alene cambia nonostante si è formato ripeto un archeologo classico tant'è vero che la sua seconda pubblicazione riguardava basi attici con fili rosse della collezione del cruz per donna di Samoria che erano solo per osservare forse non tutte per pensare che si è stato un pubblico ora questo museo era retto da una commissione archeologica comunale in cui partecipare le daremo un ruolo eminente il conte Davide Costantini che parlate prima Massimo Tarantini allora presidente dell'istituto italiano di paleontologia e che Massimo non l'ha detto ma è noto che sono Romanelli ma in bagliani venti l'istituto italiano di paleontologia umano operava i barchi rossi compare scavando alcune delle caverne da cui appunto riparo morti denominato appunto in onore all'andato per la finora e che come è stato detto aveva un approccio teorico e metodologico francese è vero che appunto Luigi Carvini venne addirittura inviato in Francia per aggiornarsi sui metodi francesi presso la febbre che è già a tempo di poco bene Massimo Tarantini in questo contesto l'archeologo classico Luigi Bernabobrega comprese lucidamente che la notevole potenzialità di una collaborazione con gli istituti italiani di paleontoluzione e questo sono le prime righe della prefazione al suo volume suo primo volume sulla caverna di da lui pubblicato sui suoi scavi della caverna delle arricane dal giorno in cui nel luglio 1939 fui chiamato a reggere la sovrintendenza dell'antichità della Liguria mi proposto come compito fondamentale della mia attività la revisione dei problemi della preistoria Ligure con la speranza di poter giungere attraverso scavi sistematici nelle caverne del Pinalese a meglio precisare la successione delle culture specialmente per le età più vicine a noi è inutile che vi dica che chi è qui a ripeter lo sapete sicuramente la non indifferente confusione che legnava negli anni 30 per quanto riguarda la successione delle culture ne ha parlato prima Massimo Tarantini veniva addirittura negata l'esistenza del paleolitico superiore quella che vedete sotto è una fotografia della Giulietta Pollera una delle come dicevo delle tante caverne alcune anche molto grandi che si trovano nel territorio di una rete e qui adesso vado a proporvi la lettura di alcuni brani tratti non da pubblicazioni ma dal diario di scavo dai diari di scavo che Vigile della Borea scrisse appunto in occasione dello scavo nella caverna delle aree e vediamo come lui è finito a scavare lì una esplorazione di quattro giorni nel finalese fatta nella primavera del 1940 mi aveva condotto a visitare quasi tutte le grotte principali della zona avevo riportato l'impressione che le arene candide la pollera e il sanguinetto ricordate nella tabella sono quelle che sono state oggetto di un maggior numero di scavi fossero così sconvolte che più nulla o quasi si potesse ricavare da uno scavo in esse a meno che disponendo di forti somme non si potessero estendere le ricerche a tutta la superficie di esse in modo da poter ceverare l'impatto da rimaneggiare la lettura dell'ICSEL il quale mi parla sempre di scavi fatti con pochi mezzi in pochissimi giorni di lavoro mi aveva però fatto rinascere le speranze facendo supporto dove era stato mucchiato il terreno estratto e a fianco delle buche degli scavatori forse si poteva conservare il terreno non scavato e che quindi tolti ogni cubolo magari si potesse trovare qualche lembo di zona intatta in cui condurre gli scavi però capite che non è certamente la situazione ottimale quella di trovare la situazione con dei canyon con dei mucchi poi un lembo di riposto poi manca eccetera quindi insomma queste caverne non erano in cima alla lista successivamente partecipa alla commissione di lettrici del museo civico che ho parlato prima non si legge bene sul diario il numero del giorno comunque nell'ottobre nel 1940 presso il gabinetto del potestà di Genova fin da insomma e parteciparono alcune persone tra cui il commentatore Grosso direttore del museo il barone Carlo Alberto Branca ed altri io proposi la ripresa degli scavi nel finalese se l'istituto italiano di paleontologia umana avessero voluto associarsi a me e darmi le direttive necessarie affinché questi scavi fossero condotti con tutti gli accorgimenti e con la stessa tecnica con cui si conducono dall'istituto stesso gli scavi nel periodo paternale insomma faccio notare come un archeologo classico e ha immediatamente appena è venuto a contatto con l'attività dell'istituto di paleontologia ma ha capito che così si doveva fare che così aveva potuto fare e così vuole fare con grande comprensione e con squisita gentilezza il barone Blanche accolse la mia richiesta e mi promise completa assistenza furono stanziate a questo fine 3000 lire sul fondo del museo dell'anno 41 e con ciò e qui vi prego di costitutare questo e chi vuoi andrà a lavorare nelle sue intendenze prego ricordate lo posto basso e con ciò le ricerche poterono avere inizio essendosi deciso ad anticipare io di Tascamia tale somma al fine di poter fare gli scavi in questo stesso autunno prima che sopravvengano i freddi internati mi scappa da ridere perché io lavoravo 32 anni e quando leggo queste prase veramente mi scappa sempre da ridere alla somma stanziata dal municipio di Genova aggiunsi quasi altrettanto da parte della regia sottraintendente ed ecco funzionava la comunicazione sì c'era solo un unico funzionario ma poi due perché avevano concesso di assumere un assistente un assistente ma il dirigente era in grado di fare il dirigente prendeva le decisioni anticipava i soldi e poi decideva senza tanti ragionamenti con Roma con progetti di metterci altrettanto di usare i fondi della sottendenza evidentemente lui aveva la disposizione dei fondi e decideva come usarli il barone Blanc mantenendo puntualmente la promessa inviò subito il mio aiuto il professor Luigi Cardini segretario della stazione di Firenze dell'Istituto il quale già aveva riordinato l'Useo di Tè il professor Cardini giunse a Genova mercoledì 23 ottobre e la sera stessa dopo aver fatto i necessari preparativi giungeva fino al marino il nostro programma era quello di rifare l'esplosizione delle grotte principali che la probleme aveva già fatto nei primi termini però cosa succede? succede che il 23 sera ottobre arrivano a finale e il 24 ottobre mattina giorno dopo viene il piove e allora cosa fanno? vanno nella caverna più vicina alla stazione di Tampinale che è la caverna delle arene Carabinale la quale non era nella lista era in fondo la lista dei siti militari ma andarono lì per questo motivo e lui dice sulla quale avevano in realtà senza poche speranze però insomma però però tutto il male è per noce a volte da un effetto a un elemento negativo nascono gli effetti positivi e così va bene in alto a destra vedete l'apertura della caverna e questo è un'altra bravissima foto per la modria che sta assistendo qualche operazione rimossa un po' di terra di riporto ci troviamo subito dinanzi alla prova del terreno intanto facilmente riconoscibile per la regolare alternanza di strati cineritizi e carboniosi dall'andamento orizzontale che avevano fatto intatti nella taverna avevo notato che quel lato orientale quello che prima vi ho fatto vedere nella pallimetria la taverna finiva presto in realtà la taverna non finiva lì hanno tolto alcuni massi evidentemente gli scavatori precedenti non l'avevano fatto non l'avano tolto quei massi e tolti alcuni massi sotto i massi c'era il deposito bene stratificato tale regolare stratificazione e l'ampiezza della zona intatta ci conducono a fermarci qui senza fare altre ricerche in atto in capo il commento che si può fare è che insomma se non l'avesse più avuto per il 24 ottobre del 1942 forse la storia della paleontologia italiana avrebbe preso una pieta leggermente diversa il primo strato conteneva le tessi di età romana e tattoromana già il secondo strato a fare materiale preistorico alla base dello strato 2 vennero in unice tra i lastri carti che qui vediamo e tracce di altre tanti volati al di sotto di questi cominciava subito una stratificazione regolarissima formata da un alternarsi continuo di straterelli biancastri polverolenti con veli narastri sottili ma continui e seguibili sempre ben distintamente su tutta la superficie dell'articino che è la stessa fotografia effettivamente spettacolare vedete sulla sinistra sulla parete di roccia segnati gli strati e si tratta di questa della caratteristica stratificazione della caverna delle rene caliche che contraddistingue quasi tutto direi gran parte del deposito all'ocento soltanto gli strati su periodico comando e eccetera non hanno questo tipo di ebbene grazie allo scavo statigrafico si riconove un periodo neolimico iniziale quello con le ceramiche impresse un intermedio con il basso molto quadrato a sua volta suddiviso in tre fasi ed un successivo periodo superiore quello con la ceramica chiamata alla corsa la seguiamo semmai allo chassi ma non solo questo diciamo è già una gran cosa insomma ma non solo in un piccolo sondaggio sul fondo dello scavo sotto la profondità di tre metri e trenta si assiste ad un nuovo appariscente cambiamento scompaiono gli strati di anche nere che abbiamo visto prima scompaiono totalmente le ossa di animali domestici subendo una paola ancora olocenica ma selvaggia un gran lunghissimo numero di ossa di uccelli che era prima invece non erano vanissimi o assenti i materiali rinvenuti nell'intervallo compreso da tre metri e novanti e quattro metri e trenta sono ormai in questo intervallo sono completamente assenti le ceramiche e sono scalitiche sono in tutti identici a quelli rinvenuti negli strati allora chiamati mesodidici dei balzi rossi condotti dallo scavo dal professore Alberto Carlo Brani perciò già alla fine della prima campagna il 22 novembre 1940 dopo meno di un mese l'obiettivo che Bernabò si era fisso come opera sua era in realtà già in gran parte raggiunto mi ha conosciuto uno strato mesolitico e ben tre principali strati neolitici con uno a sua volta suddivisibile in tre fasi e quindi la sistemazione e la successione delle culture almeno per sei periodi era raggiunto nella seconda campagna condotta il 25 aprile al 4 giugno del 41 raggiunge la profondità di 6 metri e mezzo e accertò l'esistenza di un deposito ancora più antico identificabile individuabile dal suo colore giallastro insomma con caratteristiche sedimentologiche ben diverse dalle precedenti e la bagliatura fine ecco di passare nel 1941 tutto il deposito veniva setacciato con setacci con maglie io sappia da 5 mm ma perché questi ne ho visti di setacci però non mi arrediglierei se possiamo fare qualcosa più piccolo dunque con questa vagliatura fine permise di accertare la presenza di scaglie minutissime di setce che attestano appunto o la lavorazione e o la lavorazione e il ritorno dei manufatti sul poso ora l'esistenza l'esistenza di un deposito pleistocenico nella caverna delle arene candide prima non era mai stata vista era ignota perché perché gli scavatori si fermavano su dei massi che venivano increduti interpretati come il fondo della caverna e qui vediamo vi faccio vedere con la freccia una porzione di questi massi che derivano dai crolli di apertura della caverna e anche dai crolli riguardanti le brusche variazioni di temperature e di umidità della fine della graziazione in particolare del Trias quindi alla fine della seconda campagna la stratigrafia delle arene candide presentava una continuità superiore a quella di qualsiasi altro giacimento allora no la terza campagna si svolse tra il 17 novembre e il 31 dicembre del 41 ma Bernabò Bria non poteva partecipare perché era stato trasferito così da un giorno all'altro alla seconda interna questo nell'ambito di un trasferimento in Sicilia dei dirigenti i dirigenti tutti i dirigenti degli uffici statali della Sicilia sono stati rimorsi e rimpiazzati da personale preda niente dal continente perché perché il governo aveva saputo che insomma che ormai chi aveva le informazioni tutte ormai sapeva come sarebbe finita la guerra e quindi sembrava che la Sicilia stesse preparandosi a separarsi dall'Italia e a passare agli alleati lo scavo viene quindi diretto da Ligi Cardini con la collaborazione di Ginetta Chiappella qui vi faccio vedere due foto dell'epoca ecco Ligi Cardini ed ecco Ginetta Chiappella personaggio notevole tratta di un carattere molto acceso ma non piacerebbe parlare di lei ma di essere già in ritardo un'ulteriore foto gli strati olocenici e si vede molto bene la differenza di semplicemente il deposito tra il deposito olocenico e quello dei stracenti anche con una foto in grigio la quarta campagna molto lunga avvene tra il 20 marzo e il 22 marzo del 42 è stata una campagna impegnativa perché insomma ormai la guerra era molto e guardava l'Italia e quindi ben si capiva che lo stato dello scavo avrebbe venuto venire sospeso e quindi venne approfondita l'area di scavo e emerse dalla che viene chiamata la necropoli allora detta mesolitica che oggi adesso potiamo essere delle più grave piani ciberali che vediamo alcune di quelle si continuano si continuano si continuano di una di un bambino un'altra invece qui e via posso vedere alcune foto dell'epoca Roberto scusa Roberto ci sentiamo però ogni tanto va via che forse parla più vicino al microfono grazie l'ho messo verso i piedi insomma che dà anche bene un'idea della previsione della precisione dell'accuratezza con cui veniva condotto lo scavo si decise prima di abbandonare lo scavo di praticare un sondaggio in profondità per avere un'idea appunto della profondità del deposito qui vediamo una foto con cui si riconoscono gli stati minoristi su quelli quello all'epoca valetto mesolitico io però segnalo il piano e poi sotto all'olipo in cui si riconoscono bene cinque popolari che poi si dice che non sono molti popolari ma non sappiamo se lo tagliamo troppo tempo uno due tre quattro e quinto popolare e immediatamente al di sotto di questo quinto popolare scrive Luigi Cardini nel diario di Scavo al di sotto di esso o addirittura nello spessore di esso che vende in luce lo scheletto dell'uomo paleolitico l'uomo paleolitico qui è il famoso principe cosiddetto principe della caverna dell'Eranicano nel tardo pomeriggio vabbè adesso non vi sto a leggere insomma dovete leggere insomma la scoperta è del primo maggio il primo del cento e lo scavo ovviamente di questa sepoltura richiede un po' di tempo e terminò il 15 maggio del 82 in tutta la sua bellezza usare questo termine la sepoltura di questo giovanotto molto busto un altro metro 72 pur avendo solo 14 anni quindi l'abbiamo conosciuto con questa sua cuffia con i testi i cosiddetti bastoni di comando quattro e ciascuno chiamato parco d'alci questa lunghissima bellissima lama di serce francese i bottoni i bottoni da non gommere di amore di mammut sui pantaloni insomma probabilmente l'abbessi tutto magari un po' più me mi piace far osservare che mentre i cannoni italiani e francesi erano portati uno contro gli altri in questo ecco che emerge una sepoltura il cui ricchissimo corredo chiaramente ci fa capire che questo giovanotto parteneva a un gruppo che si spostava tranquillamente da una parte all'altra di quella che allora era la indietro e allora qui vi faccio vedere alla mia sinistra forse è alla vostra sinistra lo schizzo originale su un foglio di carte sottile un po' trasparente che quasi trasparente che lo usavamo allora che Luigi Cardini redasse della stratigrafia che scende fino a 8 metri e mezzo dall'età del bronzo fino alla sepoltura del cosiddetto giovane principe che recentemente è stato datato da di Tarboio a circa 28.000 anni fatti di grave piani è un'altra palimetria della della caverna con l'area le aree in cui si è svolto lo scavo di Pernavogria nella panimetria che vi aveva fatto vedere prima la fine della caverna veniva segnata qui per farci vedere con la prescia l'area che è stata appunto invagata con gli scavi di Bernabobrea e Cardini tra il 1940 e il 1942 ripresi poi subito dopo la guerra tra il 48 e il 50 mi regalo ancora questa foto di stratigrafia e alcune osservazioni sul metodo di scavo ma già ne ha parlato Massimo Tarantini prima quindi potrei necessariamente saltarla quindi si variatura fine approccio multidisciplinare va bene non sto a leggere leggo invece così questa frase che Bernabobrea mette nell'introduzione del suo secondo volume quello che è dedicato nel 156 e che dà un'indicazione di quanto fosse forte concentrata l'attenzione proprio sulla stratigrafia lo scavo nella nuova superficie di ampliamento non è stato condotto unitariamente la superficie è stata suddivisa in tante zone con tante spinte da varie lettere nel quale lo scavo è stato condotto in modo indipendente oggi magari questo viene complicato di sicuramente meglio trovare in maniera reale ma ripeto il riconoscimento la sicurezza stratigrafica era prioritaria e quindi conclude dicendo la successione stratigrafica è stata quindi riesaminata nel complesso 10 volte e in punti particolarmente dedicati oltre 21 il che ha dato la possibilità di escludere qualsiasi errore in cui avrebbe potuto indirci il diverso ed allora il regolare andamento degli strati quindi un tema molto chiara la preoccupazione strati grafica di questi signori il compito della pubblicazione dello scavo viene diviso fra me e il Cardini in rapporto alla specializzazione di ciascuno di noi in pratica Bernabobrea si è assunto al compito degli strati ceramiche e Cardini quello del paleobitore nel 46 appena finita la guerra compare il libro il volume di Bernabobrea c'è un'unità di ceramiche che in realtà era già pronto nel 42 pensate solo che non venne pubblicato perché il manoscritto finì sotto le bonde che colpirono la sovrintendenza in occasione di un grande comportamento inglese e gente dopo il volume del 46 Bernabobrea conduce una serie di viaggi che era dedicato diciamo alla serie Renecani una serie di viaggi fa vedere materiali e pubblica quello che è il suo grande lavoro quanto riguarda Renecani nel 1956 che insomma usa la caverna delle Renecani per diciamo ordinare la successione delle culture non solo della Liguria ma insomma direi del mediterraneo nord occidentale Cardini invece non non fa come il lavoro pubblico si degli articoli ma monografie mi pare che fosse un perfezionista non era mai allo stanza sicuro e insomma fuori senza verticare l'eredità del suo lavoro viene assunta da Milca Rebietti il quale nel 1994 su Paternalia 9 è stata citata prima questo numero di Paternalia 9 è interamente dedicato alla serie paleolitica delle aree del cambio solo delle industrie delle paume altri lavori compaiono nel 1980 mentre un'ulteriore serie di lavori che riguarda soprattutto la fase oloceica con lo studio delle paume con lo studio del malapologico con lo studio dei carboni non so se l'ho detto se l'ho scritto prima oltre 60 adattazioni radiobarboniche molti di quanto fosse diciamo avanzato il metodo di lavoro nell'istituto di paleontologia ma adesso vorrei così avviandomi alla conclusione parlare dei rapporti tra Bernabobrea e Nino Lamboglia e di quanto il lavoro volto alle aree candide e ai balzi rossi abbia includito sulla archeologia vasta e Lamboglia e Bernabobrea si sono offesi abbastanza bene entrambi erano personaggi iperattivi e Lamboglia frequentava andava via ai balzi rossi sia alle aree candide ogni tanto andava anche alle aree candide per farsi prestare quanto operaio e insomma Bernabobrea li rodava magari con proprio volentieri ma insomma i rapporti erano buoni e scrive Nino Lamboglia e quindi il nostro primo compito è il canone fondamentale che sia indissociabile la ricerca della preistoria della protostoria ma quella dell'arteologia classica e insomma interessante no? e che l'una e l'altra debbano procedere con un metodo di parallele e conturità all'epoca gli scavi di archeologia classica erano sostanzialmente gli scavi degli sterbi che portavano in luce il monumento e il concetto della stratigrafia dell'archeologia classica è stato introdotto sostanzialmente da Nino Lamboglia tantomeno la scuola di scavi che veniva condotta da 20 miglia è stata frequentata da moltissimi archeologi classici che poi hanno applicato il concetto ai loro rapporti e chiarissimo di quello che voglia scrive che lui ha sostanzialmente imparato dall'istituto di teologia ma dai banzi rossi e d'italia americana addirittura l'entusiasmo che Nino Lamboglia si prova per la stratigrafia che è un archeologo classico era letto qualcosa che ha letto di nuovo lo fa sì per cui ad esempio nell'antiquarium di Ventimiglia lui ha ricostruito una stratigrafia con un grande pannello e per rendere bene l'idea in ciascuno strato ha prelevato la terra di ciascuno strato e con un po' di pina di locale altacolla l'ha incollato sullo strato per cui questa stratigrafia mi dispiace di la far vedere bianca e bianca ma non ho protacolori e anche perché non so neanche se questo pannello è sopravvistuto allo passare del tempo e insomma che gli strati qui non sono rappresentati sono rappresentati in maniera grafica ma anche proprio con la terra con la terra di di ciascuno strato riscoprendo le cose mirate nel campo preistorico da parte sua ho preso una breve nota che Bernardo Brea scrive a Lamboglia il quale dice per Alesa messinese abbiamo dunque collaborazione ho la collaborazione di Gianfilippo Carrettoni il quale al 20 milio sta la voglia a la famiglia sta intanto cercando di classificare i primi concetti raccolti sul palatino cioè Gianfilippo Carrettoni sta tentando di applicare la stratigrafia agli scavi del palatino orribile diccio con ironia fino ai luoghi più sacri giungono le resiglie provinciali le idee nuove e soldati i principi questo perché il mio Lamboglia non è che fosse molto gradito nell'ambito dell'astrologia classica le arene candide oggi concludo in questa diapositiva vedete bene l'enorme sguaccio della cava di Calcare che finalmente ferma ormai 28 anni la caverna delle arene candide si apre qui e questa è una veduta diciamo attuale o subattuale l'apertura che avete visto anche in livello porto bianco e nero oggi c'è una scalinata che consente di raggiungerla allevolmente perché ormai dalla via Aurelia è impossibile salire lassù bisogna fare tutto un giro bello però l'adevole passeggiate e questo è l'interno lo vediamo durante l'escursione la caverna è attrezzata per le visite al pubblico e se si riusciranno a convincere i vigili del fuoco il museo di finale organizzerà delle sistematiche del suo qui vedete è uno dei testimoni del deposito del deposito neolitico protetto e in attesa di venire di nuovo indagato con metodi più aggiornati il deposito paleolitico invece è ancora ingrappato lì non scatterebbe da dire che è ancora tutto lì e dopo avervi fatto vedere tanto bianco e nero del del neolitico mi piace farvi vedere qualche colore del deposito paleolitico che è entusiasmante e direi non solo per i colori io spero vivamente di vedere che qualcuno qualche università qualche interiore insomma riprenda i scari del deposito paleolitico delle anni che credo sia estremamente promettente e di ringrazi grazie 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 intanto ti volevo ringraziare per questo amplissimo panorama sul Renegandi adesso vediamo se gli studenti hanno delle domande subito massimo delantini che non è proprio uno studente mi piace mescolarmi roberto grazie della lezione molto bella io avevo una domanda molto molto puntuale relativa a una cosa che ha detto in apertura riportando riferendo di una frase di Bernabobrea che in relazione al suo scavo a Poliocni se mi ricordo bene del 36 dice la imparai come non si deve scavare ecco questa cosa mi ha colpito molto perché in ambito diciamo di storiografia dell'archeologia classica Della Seta che all'epoca era il direttore della scuola archeologica di Atene due anni dopo sarebbe stato depurato per leggi razziali Della Seta ad esempio si ricordo bene in una commemorazione di Settis in un articolo di Settis è ricordato come tra gli archeologi classici uno particolarmente sensibile alle questioni di terreno diciamo così non la ricerca sul campo quindi mi aveva incuriosito questa tua citazione ti volevo chiedere in che contesto Bernabobrea fa questa affermazione e in che anno Settis sì sì non ho sentito benissimo però mi pare di aver capito sì Della Seta viene considerato un archeologo come si deve in quale contesto Bernabobrea disse questo durante una chiacchierata durante una chiacchierata così una chiacchierata diciamo superficiale se vuoi però la cosa mi colpì è perciò che la ricordo e la riporto ma quindi una testimonianzionale tua non voglio dare più più valore di quant'altro forse la confronta con metodologie quelle delle situazioni di fare metodologie umane che sono magari sensibilmente più più precise insomma ricordo che lo disse ma non so adesso sono varie 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 affermazioni varie io non è che l'abbia frequentato tantissimo Bernabobrea mi è capitato di parlargli qualche volta ma un'altra affermazione che gli sentì fare dice ma dice secondo me dice io ho un po' cambiato idea secondo me il neolitico arriva dal nordafrica e chissà che tra qualche anno non venga fuori che aveva visto bene ci sono dati nuovi che fanno pensare questo eh non sento no dico ci sono dei dati nuovi che fanno pensare questo perché dici così Roberto perché lo dico ma diciamo i coci delle aree candide e di pochi altri siti sono fabbricati in una maniera totalmente diversa dai coci della maggior parte del dei del neolitico antico della maggior parte degli altri siti e pare che si trovi in nordafrica un qualcosa di simile ma questo è solo un elemento poi adesso c'è anche il castelnoviano che sembra che si discute che possa avere un'origine nordafricana insomma ci sono vari elementi ma forse non è la sede e neanche il tempo per discutere su questo argomento ma no perché recentemente ho visto un articolo di Jean Guilaine che faceva proprio una distinzione quella forse classica tra l'impressa della Puglia dell'Italia meridionale e la cardiale della Liguria e dell'Europa occidentale forse è questo il discorso come discorso di differenze di origine differenze di cifra tra l'impressa l'impressa tipica della Puglia dell'Italia del Sud è la cardiale del questo è un articolo di Ghilaine recente no 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 credo che ce ne entrino ben poco credo che ce ne entrino ben poco intanto il cardiale non è non è il primo neolitico è il primo neolitico dell'arco Ligure e Provenzale è l'impressa l'impressa strumentale che dura pochissimo un secolo non di più va bene allora se non ci sono ecco c'è Federico economico e poi la farò una domanda allora appunto in questi ultimi tempi anche con il professor Guidi stiamo cercando un po' di enfatizzare anche questa figura di Tredugnion con diversi contesti come quella di Luigi Cardini che proprio nel 41 oltre che iniziare lo scavo alle arene candide inizia sempre con l'istituto di paleontologia umana un altro scavo importante invece a Capri alla Grotta delle Felci noi volevamo sapere se sul fronte Ligure per gli anni appunto potrei dire 30 ma forse è meglio dire 40 a questo punto ci sono invece dei carteggi tra Bernabò Prea e Buchner Buchner che invece partecipò insieme a Cardini e Blanc allo scavo della Grotta delle Felci due personaggi che poi sicuramente si incontrano negli anni 50 alle Olie però vogliamo sapere se invece sul fronte Ligure negli anni 40 già c'erano delle relazioni tra queste due figure che hanno in mezzo sicuramente un ente un istituto che in qualche modo li potrebbe unire appunto l'istituto di paleontologia umana quindi in particolar modo quella figura di Luigi Cardini quindi essendo a lei questa domanda ma volendo anche a Tarantini insomma si sa qualcosa stai parlando con me Alessandro? si era la domanda era per te l'hai sentita? stai con me? no la domanda di Federico l'hai sentita? eh no ho capito che parlavi di un carteggio ma non appunto te la riassumo Federico chiede visto che Cardini è una figura che ha lavorato sia con Bernabò Brea sia con Blanc vuole sapere se c'è negli stessi anni anni 40 diciamo un qualche carteggio tra Bernabò e e Buchner magari in Liguria ti risulta? tra Bernabò e Buchner eh a me non risulta ma il fatto che non risulti a me non significa che non ci sia eh Massimo non mi risulta Massimo mi suggeriva Gultraro ma Gultraro con cui abbiamo parlato anche lui non conosce una cosa del genere io so che esiste nella soprintendenza di Siracusa eh una posizione diciamo di cart cioè Bernabò Brea questo significativo del personaggio eh ha sempre considerato la sua corrispondenza anche personale ma comunque scientifica come un'attività istituzionale e quindi nella soprintendenza di Siracusa c'è una posizione c'è il carteggio personale di Bernabò Brea e su cui sta lavorando Massimo Cultraro quindi che insomma è la persona più indicata per verificare in questo contesto una corrispondenza con Buchner però questo qua si riferisce agli anni successivi però cioè io voglio va bene allora io penso che abbiamo fatto una cosa molto bella su questo periodo grazie a Massimo grazie anche a Roberto Maggi mi dispiace che gli studenti non hanno fatto tantissime domande non hanno fatte soprattutto sulla relazione di Roberto e ti ringrazio e speriamo di risentirci presto saluti grazie a tutti grazie a tutti